Il libro preferito di sempre? Letteratura Cent'anni di Solitudine, in sociologia è meglio non dirlo perché sennò farei una lista lunghissima. Che libro c'è adesso sul suo comodino? Non ho libri sul comodino. E se per caso ne ristampassero uno che lei ha perso da tanti anni, quale sarebbe questo libro? Presumo qualche classico della sociologia ma non saprei dire adesso quale. Se fosse stato per lei le lauree ad onore a Vasco Rossi e a Valentino Rossi, gliele avrebbe date oppure no? Dipende dal contesto e dal tipo di laurea. In scienza della comunicazione? Però non l'abbiamo fatto noi. No, noi personalmente no, però in quanto docente a scienza della comunicazione è un po' responsabile. Questa è la mia risposta. Crede nei giovani? Moltissimo, se no non farei sto mestiere. Soffre di insonnia? No, faccio fatica a prendere sonno, poi quando mi addormento riesco a dormire anche per lungo tempo felicemente. Da sociologo un aggettivo alla nostra società? È durissima questa, complessa. Per il paesaggio sono peggio le pale eoliche o gli skilift? Per il paesaggio gli skilift, decisamente. La cravatta la porta sempre talvolta o mai? La porto talvolta quando mi è richiesto farla, oggi ho pensato che non fosse richiesto. Sbagliando. Beatles o Rolling Stones? Beatles. Qual è la qualità più importante per cellare nel suo lavoro? Ce n'è più d'una, penso, la voglia di riuscirci, bisogna avere molta grinta. Qual è la cosa che ama di più del suo lavoro? Fare ricerca e insegnare, anzi al contrario, insegnare e fare ricerca. Lei si ritiene apocalittico o integrato? Temo di essere un apocalittico, un po' fuori moda ma è così. Legge un libro alla volta o più libri? Due o tre. La sua città preferita? Città preferita? Assolutamente Venezia. C'è una scuola superiore che prepara meglio alla frequenza del suo corso? Penso di no, non è il che cosa si studia ma come si studia che prepara meglio secondo me, quindi aver avuto buoni professori superiori ti aiuta anche all'università. Qual è il numero ideale di studenti per il suo corso? Partendo dai duecento che ho di solito 60. Nei suoi esami pensa che gli studenti copino? Io faccio di tutto perché non lo faccio, penso che qualcuno ci riesca, ma se ci riesce è un onore suo, quindi onore al merito. Una notizia che di recente l'ha fatta riflettere? Il fatto che Berlusconi non sia andato in un programma televisivo. La fa strano, immagino. Lavatrice, frigo o tv? Se dovesse rinunciare a un elettrodomestico, quale sarebbe? Il frigo perché posso mangiare cose che compro di giorno in giorno. Quanti cuori infranto? Devo fare il conto? No, una stima. Quattro o cinque, però sono stato infranto sei o sette. Quindi insomma si sente perdonato? In qualche caso temo di no. A che ora si sveglia la mattina? Alle otto. Meglio verdi o puccini? Assolutamente puccini. Cosa farebbe oggi se dovesse morire domani? Non sarei qui e farei le cose che più mi piacciono senza pensarci. Ma al dentista bisogna pure andare. E se si muore domani no, o si muore lì o non si va. Insomma è sempre bello, è sempre giusto prendersi cura dei papi denti. Probabilmente sì. Lo slogan Italia Forza è una missione di colpa? Questa è una bella domanda. Direi che è la frasetta sotto che è la missione di colpa, più che non Italia Forza. Sì, avete letto bene? Sì. Come mai? Perché fa capire questo gioco di parole, esattamente in questo senso. Cosa deve avere una donna per essere affascinante? Essere intelligente. Il paese più bello che ha visitato qual è? Il paese più bello, penso, la Danimarca. Lei è un appassionato di musica, di opera, mi risulta. Bocelli? No, eh? Da quanto tempo insegna a Padova? Insegna a Padova da ben... Beh, che sono all'università, sono vent'anni, che insegno 12-13. Cosa ama di più nella sociologia? La capacità di capire, come ho detto prima, quello che non si vede a occhio nudo, cioè smontare la macchina. Hai insegnato in un'altra università, oltre a Padova? No, ahimè. Suona qualche strumento? Sono assolutamente stonato, nonostante anche l'acqua era lì. Quindi neanche canta sotto la doccia? Sì, perché se il box è chiuso e nessuno mi sente, lo faccio. Sono meglio i torresani o i polli allo spiedo? I torresani? Ma come mai viene questa notizia? Perché noi sappiamo tutto, professore... I torresani? Non so più se li fanno, però. Sì, sì, li fanno, li fanno i torresani. È stato uno scout? No, ero in azione cattolica. E i nomi dei sette nani quali sono, se li ricorda? Cucciolo, dotto, sociologo, ecologo, trasvologo. Pensa che andrà in paradiso, soprattutto dopo questi... Assolutamente, no, spero ardentemente di andare all'inferno. Ma chi ha scelto il suo nome? Non so chi dei miei genitori, tutti e due, penso. Il piatto preferito? Ne ho tanti, di peccaminoso, una verdura, presumo, non so dire quale, ma di solito verdure con molto pocio da tocciare. Ha mai sottovalutato qualcuno? Sottovalutato qualcuno? Penso di sì. E i soldi non fanno la felicità? È la felicità che fa i soldi. Eh sì. C'è qualcuno a cui nega il saluto? No, per ora no. Per ora no. Nel senso che potrebbe abbattersi su di me. Ho detto per ora no, non ho detto che sia. La sociologia l'ha aiutata nella vita? Un po' sì, come tutte le cose di cui si è esperti. Il suo stipendio è buono, decente, insoddisfacente o troppo? Troppo decisamente mai per nessuno. Direi che è buono e insoddisfacente rispetto agli stipendi che hanno professori in altri paesi europei. La sociologia l'ha aiutata nell'amore? Decisamente no, perché se si andasse in amore con la sociologia non se ne uscirebbe mai vivi. Un giudizio sull'università italiana? È una fase di passaggio. Può prendere una strada che la conduce a diventare un'unità europea oppure può perdersi. C'è chi lavora in un senso e chi lavora nell'altro. E ora come ora? Come vede questa... Siamo un po' in mezzo al guado, per cui speriamo che le cose che sono state... che sono partite con la riforma portino frutto più che non ostacoli. Soli cretini non cambiano mai opinione. È una verità o una giustificazione? Dipende, naturalmente che è la risposta giusta del sociologo, così ci penso un attimo. Penso che possa essere sia l'uno che l'altro. Nel senso che è vero che nell'arco di una vita si cambia opinione per forza, però cambiarla ogni cinque minuti è effettivamente un modo di essere cretini. Lei cambia opinione? Sono un po' caparbio, però mi riesco ogni tanto.